Allora ragazzi, in questa lezione, diciamo in questa parte del corso, vorrei prima di passare alle varie tecniche vibrato e glissato, eccetera, volevo parlare del sound, quindi cos'è che mi ha fatto innamorare appunto di questo basso e volevo rispondere anche alle tantissime, tantissime, tantissime domande che ho ricevuto nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi tempi, riguardo al mio suono. Questo, come ho scritto nel libro, a me mi riempie di orgoglio, mi riempie di gioia, però l'accostamento con il sound di Giacomo è un parolone, mi mette anche un attimo in difficoltà quando devo rispondere alle varie domande, ma come fai a avere il suono di Giacomo? Cosa usi? Che effetti? Che setup fai? Allora, qui io ne ho già parlato, però approfitto di questo corso perché stiamo parlando di fretless, mi sembra doveroso chiarire questo punto. Allora, innanzitutto non ho il suono di Giacomo perché io sostengo, sono un sostenitore accanito che nessuno al mondo avrà mai il suo suono, ma come nessuno al mondo avrà mai il mio o avrà mai il vostro. Cioè, ognuno, questa cosa è proprio, secondo me, la Bibbia. Se io vado a un concerto di Pino Palladino, perché sono un fan di Pino Palladino, mi chiama e mi dice vieni sul palco e suona un brano al posto mio, col stesso basso, quindi attaccato agli stessi amplificatori, tutto. Quando lo suono io, quel basso lì non uscirà mai, da quel basso lì non uscirà mai il suono di Pino Palladino. Ok, come se mi chiamasse Giacomo, magari mi avesse chiamato Giacomo. Non è che con il suo fretless, che vabbè, è uno spettacolo, era uno spettacolo. Magicamente lo vado a suonare io e mi esce il suo suono. Questa è proprio una questione, fortunatamente, perché sennò saremmo tutti uguali. È una questione fisica. Cioè, il modo in cui io premo la corda, il modo in cui la pizzico, dove la pizzico, con che intensità, con che dinamica, con che colori, proprio, diciamo, sono troppi i fattori che incidono sul suono. Quindi, al limite, si può dire che io ho ascoltato Giacomo in primis, ma anche appunto Pino Palladino, ho ascoltato tanto Gary Willis, ho ascoltato tanto anche bassisti di casa nostra, Rael Kanzian, anche perché suonano la Tribute de Pue, ho ascoltato Massimo Moriconi, che sono tutti bassisti che suonano anche Fretless. E per forza di cose sono maggiormente condizionato dal loro e dal loro suono. Perché se io avessi ascoltato nella mia vita solo Beethoven e suonassi il pianoforte, avrei un po' la tendenza a suonare in quel modo lì, in modo classico, diciamo. E quindi è logico che ognuno prende spunto e di conseguenza tenderà ad avere un sound simile ai propri, diciamo, eroi, come vogliamo chiamarli, ai propri artisti preferiti. Ma da qui a dire avere un suono uguale a Tizio, un suono uguale a Caio, c'è una differenza abissale. Secondo me è del tutto sbagliato anche solo pensarlo. E quindi non cercate mai di copiare un suono. Dovete avere una vostra identità. Se poi la mia identità agli occhi esterni, diciamo che ricorda un po' il sound di Jaco, almeno fa altro che piacere. Però non è una cosa voluta. Non è che mi sono messo lì a guardare come settava lui i suoi ampli, anche perché non ho gli acoustic che aveva lui. Non sto a guardare dai video, cercare di capire a quanto teneva l'altezza, che piccata aveva. No, questo è del tutto inutile. Io lo ascolto e, casomai, cerco di capire come mai aveva un bel vibrato, come mai aveva degli armonici clamorosi. Questo è lo studio di un personaggio, lo studio di un artista, e non voler fare la copia di un artista. Tant'altro saremo sempre brutte copie. Anche suonando in una Tribut Man, come nel mio caso De Poo, non farei mai la copia di Red Canzian, perché c'è lui, ce n'è uno. Quindi io sono Igor Sardi, detto così mi sembra di essere all'alcolista anonimo, però io sono Igor Sardi, e quindi quando vado sul palco, non sono Red Canzian, piuttosto che Marcus Mill, eccetera, sono io, quindi sicuramente dovrò cercare comunque un sound inerente a quello che sto facendo, in quel caso De Poo, quindi lo ascolterò, ascolterò il suo modo di suonare frazzlers, e cercherò di adattarmi un po' alla situazione, ma non farò mai, non le andrò mai a chiedere, Red mi dici come seti i tuoi bassi, oppure come, che amplificatori usi, cioè non ha senso, ecco, diciamo così. Detto questo, fatto questa premessa, dico sempre promessa, poi mi correggono premessa, io vi dico che, innanzitutto mi sono innamorato di questo tipo di bass, perché come già detto e ridetto, le sfumature sonore, con questi vibrati, glissati, non riesco ad averli col basso con i tasti, quindi è come se il mio, è come se riuscissi a parlare più lingue, quindi avessi un bagaglio culturale molto più ampio, soprattutto nei soli, o comunque anche nell'accompagnamento, sono molto più melodico, con il basso fretless, cosa che mi riesce meno col basso con i tasti. Poi, altra cosa, il feeling, a me i tasti, diciamo che danno proprio noia, nel senso del rumore dei tasti, quello sferragliamento, che si sente, che si può un po' coprire, un po' mascherare, ma c'è sempre, non è che mi faccia impazzire, qui i tasti non ci sono, e godo, quindi quando suono, questo è un altro fattore. Poi volevo dirvi, che appunto, volevo rispondere alle tante domande, che mi sono state fatte, su cosa utilizzo, cosa non utilizzo, anche se l'ho già detto, lo ripeto, comunque io, come tutti, come tutti giustamente direi, ho sperimentato tanto, da quando ho iniziato a suonare il basso, ho sperimentato corde, ho sperimentato piccato, ho sperimentato bassi, non molti, però qualche basso l'ho sperimentato, ho sperimentato diversi tipi di tastiere, nascere, un palissaggio, tante cose, effetti, non molti, però, l'ho sperimentato, sono arrivato poi, amplificatori, ho avuto Ashdown, ho avuto la Mark Bass, per l'amor di Dio, ho avuto ATC Electronic, ne ho avuti diversi, e è giusto così, è giusto sperimentare, è bello sperimentare, poi sono arrivato a un'età, in cui ho detto, bassi, me ne bastano due barra tre, in precision, un jazz con i tasti, e un fretless, il jazz, perché a me piace più di tutti, effetti, ripeto, non è che ne ho provati tantissimi, ma cosa mi serve? Un reverbero e un chorus, io utilizzo un reverbero dell'ATC Electronic, tanto trovate tutto scritto, e un chorus della, ricordo nemmeno la marca, Akai, questi sono i due effetti che utilizzo, non uso equalizzatori, non uso al limite, o nel live, chiedo al fonico, se c'è bisogno un po' più di, una punta di medi, eccetera eccetera, non uso compressori, a meno che non mi venga richiesto, non uso più amplificatori, a meno che il palco non sia veramente grosso, che serve un po' di spinta sonora, ma nei palchi un po' più piccoli, nelle situazioni ridotte, porto il mio preamp, quindi stacco la testata dall'apply, me la porto, me la uso come preamp, quindi al limite da lì, regolo un pochino, c'è già un equalizzatore, parametrico, e già da lì magari, regolo un pochino, stop, io non utilizzo altro, per quanto riguarda invece il setup dello strumento, qui vi rimando poi al libro che ho fatto, proprio sul setup, sulle modifiche, sull'assemblaggi dei vari componenti del bus, eccetera, trovate tanto tutto sul mio sito, ne ho parlato molto lì, e io tutti i bus che uso, li setto a orecchio, nel senso che io prima ero di quelli che guardavo, allora la fender dice che l'altezza delle corde deve essere in questo range, la fender mi dice che i pick-up devono essere a questa altezza, inclinati in questo modo, il truss road in quest'altro modo, eccetera, allora, innanzitutto, già con il bus, con i tasti, io me ne frego un po' delle regole, e vado con questo, con l'orecchio, quindi, il truss road, io lo regolo, essenzialmente con il bus attaccato, e quando trovo il suono che mi piace, perché sapete, più allento, più lo stringo, cambia la curvatura, cambia anche il suono, ovviamente, quindi quando trovo, andando sempre molto, pacato, diciamo, un quarto di giro alla volta, quando sono soddisfatto del, del sound, del feeling, col basso, per me è a posto, per me va bene così, può esserci un rilascio anche di mezzo metro, però non sto a guardare capendo, poi ovviamente sul fretless, il setup cambia, quindi non avendo le barrette, anche le distanze, misurare le distanze, diventa un po', diciamo, superfluo, e difficile, quindi, il truss road lo regolo in questo modo, l'intonazione, la regolo più o meno, so che il mio sol, a parte mi aiuto con gli armonici, quindi regolo l'intonazione con gli armonici, altrimenti, so che il mio sol esce intonato, in un determinato punto, se vedo che dopo un po', a quel punto lì, mi esce calante, regolo un po' le sellette, e basta, i cambi di stagione, non aiutano, vero, quando d'estate, ad esempio, i bassi, soprattutto se si suona molto fuori, prendono l'umido, tendono ad inclinarsi, in un certo modo, quindi, va regolato un po' più spesso, il truss road, perché, vi accorgerete che le corde, sono più vicine alla tastiera, oppure d'inverno, contrario, magari si, le corde si, si allontanano, quindi lì, basta una chiavettina, e si regola, il suono, allora, ultima cosa, le corde, io utilizzo, da una vita, ormai le roto sound, perché, non costano un enormi, diciamo, troppo, perché ora, con una ventina, poco più di euro, si prende una musa, ma, dovete trovare le vostre, primo, perché sui fretless, le corde ruvide, io uso corde ruvide, rovinano, il legno della tastiera, quindi, questo, questo manico del 2019, già, ci sono i segni, e lo suono poco, sono, molto poco, rispetto a prima, il, eh, manico di prima, dove ci studiavo, ore, 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 tutti i giorni, c'era delle fosse, che, eh, a ripararlo, ci voleva più di, insomma, non valeva la pena, diciamo così, che era un manico, eh, messicano, dissi, vabbè, lo compri un uovo, faccio prima, però, quindi, dovete anche valutare questa cosa qui, questi strumenti, come tutti gli strumenti, senza tasti, quindi, gli archi, sono nati, per essere suonati, detta così un po', per essere equipaggiati con corde lisce, essenzialmente, proprio per un discorso di, vedete, i segni, che lasciano queste maledette corde, le corde lisce, no, non, non fanno questo effetto, quindi, basatevi anche su quello, e poi, io mi trovo bene con queste corde, tant'è che, le monto su tutti i miei bassi, perché c'ho un feeling, particolare, proprio con la corda, con la durezza della corda, eccetera, quindi 105-45 ruvide, quindi, corde l'ho detto, ricordatevi anche che, se avete, un, una tastiera in palissandro, è un po' più resistente, se avete, una tastiera, fretless in acero, e ci montate le corde ruvide, è una tragedia, detto questo, i pick up, sono, Castoshop 60, il ponte, sono i ponti, quelli vintage, Fender, e basta, il suono, questa è una cosa che vale, per il fretless, ma, per tutti i bassi, prima di, consiglio che vi do, prima di acquistare, effetti, amplificatori, cercate di conoscere, a fondo, tutte le possibilità sonore, che vi dà il vostro basso, per esempio, un Fender Jets, già, di per sé, ha molti timbri, cioè, diciamo, il timbro, in linea di massima, è caratteristico, del Fender Jets, però, già, sentite, agendo, solo sul tono, quanto cambia, un suono, agendo, solo sulla manopola, del tono, così è chiuso, lo apro, per me ha già, un suono, totalmente diverso, ora, sentite, si è esposto la mano da qui, facendo due note, a qui, da un suono molto nasale, a un suono gonfio, rotondo, oppure, chiudo il pickup, a ponte, apro quello, al manico, apro il tono, tutti e due, i pickup, chiudo il tono, apro il tono, questo non è sicuramente il mio suono preferito, però, avete capito, già, a seconda di dove sto, di dove metto la mano destra, cambia tutto, e poi anche, quanto, quanta pressione faccio, proprio su, con la mano destra, quindi, la dinamica, se io suono, così, il punto in cui, suono la nota, cioè, mi, preso qui, a un altro timbro, da mi, preso qui, tutte queste considerazioni, fatele, prima di, magari, spendere soldi, su effetti, appunto, cose varie, perché già, lo strumento, e le nostre mani, ci danno tantissime, possibilità sonore, quindi, anche poi, il modo in cui, premiamo, le corde, appunto, eccetera, eccetera, quindi, questo, per quanto riguarda, il sound, mi sono dilungato un po', però, ci tenevo molto, a fare questa, questa lezione, nel prossimo video, parleremo, del vibrato, e tutte le sue, sfaccettature, ci vediamo al prossimo video, ragazzi,